Buongiorno, oggi è martedì 2 aprile, temperature estive, agricoltura siciliana sempre più in difficoltà, il grido di allarme di Ignazio Gemino, vicepresidente di Coldirette Sicilia, che rilancia così l'allerta siccità, oggi altissima, visto che continua a non piovere, i seminativi dopo la boccata d'ossigeno di febbraio stanno rapidamente cambiando aspetto. Questi provvedimenti immediati dal Governo regionale, in deroga ai normali iter burocratici, come la realizzazione di nuovi pozzi o l'allacciamento diretto ai fiumi. Pasqua è Pasquetta con i problemi idrici ed aggrigento, dove l'emergenza causata dall'acqua razionata, che ha stravolto i turni di erogazione, ha provocato disagio anche alle attività turistiche di ristorazione. Molti si sono riforniti con bidoni riempiti alla fontana di Bonomorone, dove c'è stata la fila, altri hanno chiesto ad Aica l'invio di autobotti. Le strutture turistiche sono state costrette a rivolgersi ai privati. Federalberghi ha chiesto un incontro urgente con il prefetto Filippo Romano. Nove imprese, tra le 15 invitati, hanno presentato la propria offerta all'avviso pubblicato dal comune di Sciacca nell'ambito della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione del complesso poliovalente della piscina comunale. L'avviso scaturisce da un finanziamento di 850 mila euro concesso due anni fa nell'ambito degli interventi nazionali di rigenerazione urbana. Alla prima seduta della Commissione, svoltese lo scorso 29 marzo, una delle nuove ditte ammesse è stata invitata ad integrare la documentazione presentata. Con il finanziamento si effettueranno interventi di completamento dell'impianto sportivo, dopodiché si deve passare alla fase difficile dell'affidamento in gestione. A Montevago sono stati consegnati all'impresa esecutrice i lavori per un intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della palestra comunale annessa alla scuola primaria Leonora Gravina. Il progetto, che ammonta complessivamente a circa 404 mila euro, è stato finanziato con i fondi del PNRR. Ad eseguire lavori sarà la GSP Costruzioni SRL di Sciacca. Tragico lunedì di Pasquetta a Palermo. Ieri sera Ion Doru Vacarescu, motociclista di 54 anni di origine rumena, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in Via Dante. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo viaggiava a bordo di uno scooter quando, per causa in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto schiantandosi contro un albero. L'impatto è stato fatale. Grigliata con feriti, ieri a Pasquetta nel Messinese, a Melazzo, un 14 anni, stava accendendo il fuoco del barbecue quando è stato investito da una fiammata di ritorno che gli ha causato gravi ustioni al volto, al torace e agli arti superiori, accanto al giovane altri due ragazzi che sono stati raggiunti dal fuoco ma in maniera minore rispetto all'amico. Stasera alle 20.15 sul canale 80 di RMKTV andrà in onda la nuova puntata della rubrica settimanale Meeting Sport. Si parlerà di pallavolo in previsione dell'ultima giornata del campionato di Serie C che deciderà la composizione del play-off promozione. Il volo a Calabischacca con i termini merese si contende. Il primo posto sarà ospite in studio il pallavolista Sandro Galluzzo. La trasmissione celebrerà poi la scherma a Sacchense con la promozione in Serie A1 della Discomolo Femminile grazie a terzo posto ai campionati italiani di Serie A2. È tutto per questa mattina più tardi. Buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.